Oh scusi, scusi, che l'ha fatto in drago? Stava aperto e come ho chiesto le uova al vicino? Mi ha detto che tu puoi aggiungere qualcosa da dammi qua? No, non mi feda più, sti puttane non mi feda, non lo so se ce l'ha, c'ho poco, c'ho poco, mi serve a me. Ma 10 euro mi basta? 10 euro, vabbè dai, 10 euro per me dire, dammi 5 euro. 5 euro di gioia? 50 centesimi o? E io, ma che? Vieni qua, fa lo prezzo tutto, fai andato pare, oh a me ce la devo faticare, ce la devo mancine, oh, 50 centesimi. Ma sul supermercato sta a vendi, vabbè che qua è biologico, gli dai roba buona, capisco, però da vendi a 50. Supermercato sta a vendi? Supermercato sta a vendi. Vabbè dai, allora faccio dai 40, 40, dai 40, dai 40. Vabbè, allora girai un po', e allora? Eh, va, una vendita nuova, però domani, domani. Allora facciamo così, domani vengo mi dai vendi, va bene? Vabbè, a 40 centesimi. 40 centesimi, va bene? Vabbè, ci vedremo domani. Ciao. Ciao. Ozzì, vanno allo supermercato a Pialoa, che siamo trovati un pollo che ce li paga il doppio. Nozzé 3. Vabbè. Nozzé 3. Nozzé 4. Noander. Nozzé 4. Nozzé 5.